Ne ho una sicura che è sisa e io adoro il suo stile, è bellissima, c'è il fatto che riesca a conciliare sia il fatto di sembrare davvero fresca, giovane e allo stesso tempo di sembrare una bad bitch ogni volta che tipo stai sul palco si mette gli altri outfit, quelli più seri diciamo. Benvenuti a Nati di Stile, il podcast di Cosmopolitan in cui parliamo di moda, beauty, tendenze e stili di vita. Io sono Cecilia Albaluè e sono qui con Sissi, ben arrivata. Ciao, grazie per avermi invitata, bellissima. Felice di averti con noi. Sissi, sei qui a Sanremo perché salirai presto sul palco dell'Ariston, raccontaci che cosa farai. Allora, senza spoiler, cosa assurda, faremo cover di Lady Marmalade con Big Mama, saremo Big Mama, la nina, Gaia e io e faremo questa esibizione diciamo molto, diciamo che si attiene all'originale più o meno, quindi sarà piena di cose, piena di energia, cioè quello che speriamo. Non vedo l'ora di sentirla, io amo quella canzone, ma ci sarà anche un'ispirazione negli outfit dall'originale? Eh, allora. Senza spoiler, dacci un mini spoiler. Senza spoiler, sni. Ok. Sni. Nel mio un po' sì. Ok. Perché mi piace, mi facciano tutte quelle cose, tutti, così mi piace. Ma lo stile, come interagisce con la musica nella tua arte? Con stile intendo tutto, adesso vedo che hai delle unghie stupende, adesso prima mi facevi vedere che avevi uno specchietto nella cover del telefono, quindi... Sì, allora, considera, a me è sempre piaciuto tantissimo lo stile, diciamo un po' giappo, un po' college giapponese, sempre è stato il mio mood, cioè mi ci sento molto anche per la cultura loro, della loro timidezza, mi ci rivedo molto. Quindi, quello sicuramente mi aiuta ad essere sia fuori, cioè ad essere fuori come sono dentro, praticamente, sento che le cose matchano. Poi io vario molto, sono molto bipolare sulle cose, cioè mi potresti vedere tipo tuta, over, gigante, baggy, tutto, oppure così. There's no in between. Però l'importante è che mi faccia sentire, che non mi faccia sentire, non so come dire, troppo diversa da quello che io sono. Cioè, coerente con la tua personalità. Sì, sì, infatti, poi vabbè, adesso mi è partita questa cosa delle unghie che... Sono pazzesche queste unghie. Ti giuro, vorrei mettere tipo mille lochitti sopra. Ma riesci a fare le cose con queste unghie, infatti? Sì, perché praticamente quando le unghie è così non riesci neanche a chiudersi i pantaloni. No, letteralmente, non riesco anche, vedi, se faccio così, ovviamente non posso, non posso fare letteralmente nulla. Però, per questo, la moda, eccoci. È anche sofferenza. Nell'art, esatto. Senti, ma se tu dovessi scegliere un'icona di stile, chi sceglieresti? Un'altra icona di stile. Può essere un'artista, una cantante, un designer, una persona che ispira il tuo modo di vestire, il tuo stile. Oddio. Fammi pensare. Allora, ne ho una sicura che è Sisa. E io adoro il suo stile. È bellissima. Cioè, il fatto che riesca a conciliare sia il fatto di sembrare davvero fresca, giovane, e allo stesso tempo di sembrare una bad bitch. Ogni volta che, tipo, stai sul palco, si mette gli altri outfit, quelli più seri, diciamo. Quella cosa mi piace tantissimo. Cioè, il contrasto tra queste due cose lo adoro. Poi, chi altro? Vediamo. Forse tipo Regina George. Amo, amo. Cioè, potrebbe essere. Beh, sono due cose pazzesche. Sisa. Me l'amo. È pazzesca. E invece c'è stato un outfit, tra quelli che hai visto fino ad ora sul palco, che hai preferito. Senza essere di parte, però avrei avuto un preferito. Cioè, non voglio essere di parte, però Big Mama ha spaccato tutto. Big Mama ieri sera. Mi dispiace quando ho fatto il reveal. Per me è stato tutto. Sì, nella seconda serata ha fatto questo reveal con i collant, con le calze dedicate alla comunità queer. Veramente stupendo. Bellissima, guarda, ha apprezzato tantissimo. Poi mi piace sia il fatto che risultava potente, che però emotiva allo stesso tempo. Cioè, con il messaggio che ha dato, mi è piaciuto tantissimo. Poi, che altro? Fammi pensare. Mi piaceva Rose Villain, il primo vestito che ha messo. Marni, bellissimo. Azzurrino, tutto così, bellissimo. Sì, veramente stupendo. E poi... Non lo so. Vabbè, dai, ne hai già scelti due. Sì, esatto, ne hai già scelti due. E c'è una cosa invece che tu non indossaresti mai? Le ballerine. Mai. Mi dispiace. Anche adesso che le ballerine sono ritornate. Non ci sia. Cioè... Neanche quelle di Miu Miu? No. Io la amo, Miu Miu, però non... Cioè, proprio ti... Cioè, io devo slanciare, amo. Perché se no, qua... Cioè, capito... Non è una scarpa facile. No. Ballerine non ci siamo. Oppure anche, tipo, l'opardato. Le animalier. Non mi piace tanto. Non ti piace? No. Vabbè, ci sta, vuol dire che non segui tanto le tendenze, visto che adesso sia le animalier che le ballerine. Esatto. Avemo. Quindi, vabbè, ci sta. Perfetto. Ci sta. Vuol dire che non segui le mode, ma segui il tuo stile. Esatto. Senti, ti faccio un'ultima domanda sul futuro. Se chiudi gli occhi e pensi a un sogno legato alla moda o al beauty, che cosa esprimi? Oddio, un sogno... Qualsiasi sogno. Che ne so, che ne so, indossare un brand, oppure essere vestito da uno stylist, o indossare un certo tipo di abito? Allora, vabbè, il mio sogno sarebbe, so che lui è un po' una persona particolare, però Kanye West, se dovesse mai vestirmi, cioè qualsiasi cosa può fare, capisci? Io bene, I can take it, mi basta che ci sia lui, perché lo amo. Ci sta. Quindi lui tantissimo, e poi anche Miu Miu mi piace tanto, cioè fare... Bello, amo questi due posti, Kanye West e Miu Miu. Non mi sento assolutamente nulla, sono le mie due... Però ti auguro tantissimo di essere, di riuscire sia con Kanye, sia con Miu Miu, e anche un super in bocca al lupo per la serata dei duetti. Grazie mille, davvero. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie, grazie. Grazie.